Prima, via Orazio 73, Napoli Veneroso gomme moto, è a Napoli, in via Piedigrotta 21-22 Moto e moto, a 100 metri dall'uscita tangenziale Varcaturo Ed è piacevolissimo incontrare qui a Lago Laceno il nostro Vittorio Iannuzzo Ciao Vittorio Ciao ragazzi Che ovviamente è mancabile, ogni evento targato motor sannio Ma comunque gli eventi targati in campagna tu ci sei sempre Assolutamente, è sempre un piacere Era tanto tempo che non ne faceva uno Adesso si è riproposta l'opportunità e come non mancare Allora, moto, parliamo di mondiale, super sport Quest'anno sta andando benino, ti stai divertendo Penso una dimensione intorno a te positiva Perché i risultati sono anche molto interessanti Quelli che sono arrivati, forse non le ultime due gare Però un bilancio finora, anche se siamo quasi alla fine, positivo L'obiettivo era comunque entrare nei primi dieci, no? Sì, l'obiettivo finale era quello di entrare nei primi dieci della classifica finale Al inizio, sinceramente, dopo averso metà campionato Ho anche pensato di fare qualcosina in più Perché ero sesto in campionato e il quinto era molto vicino Poi ci sono stati questi due stop che mi hanno un po' allontanato da questo obiettivo E si sono avvicinati anche alcuni piloti dietro E' mancato e mancato il podio L'abbiamo sfiorato in due o tre occasioni Sono arrivato molto vicino, con quinto e un sesto Però è anche vero che quello che ci interessa più noi Sono un po' i distacchi dai primi Quindi delle volte anche arrivare quinto A un distacco molto sotto i dieci, undici secondi È molto importante Spero di coronare questo campionato con un podio Per me sarebbe Diciamo come Sarebbe quello per cui sto lavorando Gli ultimi tre o quattro anni Perché sono stati molto difficili Con squadre non all'altezza Adesso che mi trovo in una situazione buona Con una squadra buona Sarebbe veramente giusto prendersi questo podio Io veramente te lo auguro di cuore Sai quanto ti stimiamo e ti seguiamo da tempo Quindi speriamo che queste ultime due battute Ti facciano realizzare questi risultati Voglio farti anche un'altra domanda Che è un po' riferita all'insieme Di quello che sta accadendo in questo momento Nel nostro mondo Nel mondo delle gare Per quello che ti riguarda Tu conosci molto bene Battà Hai vinto un titolo mondiale Superstock nel 2002 Con Suzuki E Battà è stata sempre una figura Importante In questo circus della Superbike Un riferimento Quest'anno lui si è ritirato E non tornerà Quindi abbiamo perso Ma ne stiamo perdendo parecchi Di pedine Anche se c'è una politica Di comunicazione Che dice la Superbike Sta prendendo piede Però in realtà le case stanno ritirando Ducati Yamaha Insomma c'è un po' quest'aria Che tira Secondo te Stiamo andando verso Delle soluzioni giuste L'anno prossimo La Superbike Sarà in onda in Italia Su Italia 1 Perché Italia 1 Ha scartato Il mondo mondiale Che sta perdendo Consistentemente interesse Insomma Che cosa sta accadendo E secondo te Che cosa si potrebbe fare ancora Per cercare di migliorare Un po' la situazione Allora Io sono uno di quelli Che è pro Alla Diciamo Per la Superbike Dove non ci devono essere Comunque penso Squadre ufficiali Perché comunque La Superbike Lo spirito Superbike È quello di avere Delle moto derivate dalla serie E non serve avere Delle squadre ufficiali Delle moto ufficiali Delle case impegnate direttamente Quello che stanno facendo È giusto Diciamo Appoggiare Il proprio materiale A squadre semi ufficiali O comunque supportate ufficialmente E questo sarebbe Già un grosso passo Certo Però se continuano A noleggiare le moto A un milione di euro A stagione Come fa Aprile O comunque Quanto meno Non so esattamente la cifra È diventata difficile A quel punto lì Solo la squadra ufficiale Può permettersi Di fare delle corse A quel livello Se è in difficoltà Se è in difficoltà Anche se si cerca Di dire Che non è così Però Però Queste manovre Che stanno facendo Sia le case Che l'organizzazione Sicuramente porteranno Dei benefici Un po' di luce La vedo per il 2014 E siamo con lo staff Cubello Oggi posso dire così Che tra gli sponsor Il nostro Vittorio Annuzzo Ovviamente Immancabile La nostra in San Ruggero Vittorio l'abbiamo già sentito Dove ci sono le moto E c'è gli annuzzo Ci sei tu Eh sì Cerco di esserci sempre Perché Bisogna sostenere I nostri piloti Ma soprattutto io Ho un debole Per Vittorio Giannuzzo Diciamolo così Tanto ormai Lo possiamo dire Lo puoi dire Vittorio è single Signori Lo possiamo dire Quindi Evviva Vittorio Giannuzzo Ma tu un'opera Che c'entra Che c'entra Comunque Siamo in questo Splendido scenario Ed è un vero piacere Essere qui Essere stata invitata A accompagnare Vittorio Abbiamo una modella bellissima La nostra Laura Ciao Laura Dove la sentirei? È tutta anche lei Brandizzata Cubel E naturalmente Salutiamo Ciro Che non è qui Perché è in vacanza Ai 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 Ciro Troncone Ma è dal primo luglio Che stai in vacanza Ma lui è nato in vacanza Sempre in vacanza E mi fa piacere Anche trovare Starbikers Perché dove ci sono Gli eventi che contano Starbikers c'è Come te Tra il resto Ecco diciamo Alla prossima Alla prossima Salutiamo la tua figlia Sì La piccola Lara Sì Ciao Lara Scusami Ancora non ti siamo venuti A trovare Ma noi dello staff Cubel Vittorio Giannuzzo E Ciro Troncone Berremo a casa tua Quindi dia a mamma Di preparare una bella cenetta Abbiamo anche la nostra Laura Che è appena finito Di fare questo giro Con Vittorio E come è andato? È andato bene Un po' Così Così Brio Ma che tu vi sono spaventatissima No 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 È che avevo paura Che salisse sulla rampa Solo questo Però tutto ok Ma il tuo rapporto Con le moto com'è? No buono Cioè Sono sempre andata Tranquillamente Quando la velocità È moderata Va bene Quindi non sei una grossa Appassionata Però ti piacciono Non sono una grossa Appassionata Però mi piacciono Si